eccoci benvenuti siamo quasi a località puonso e qui partirà questa altra novità dell'edizione 2021 della foro enduro che sarà la ps3 anche qua come lunghezza siamo quasi due chilometri e mezzo partiremo proprio da qua da 1300 metri per arrivare proprio direttamente in piazza andiamo a vedere l'anteprima di questo sentiero com'è proviamo per la prima volta in ufficiale anche noi si si infatti poi chiaramente verrà tutto sarà ancora da tagliare un po il prato in alcuni punti e tirare le fettucce faremo il prossimo weekend bene andiamo con la calmetta terreno nuovo fresco eccovi pezzettino un pelo stretto può permettere in pratica le vostre abilità di giocolieri in bicicletta un po di radici che non fanno mai male per i vostri cerchi attraversiamo i primi prati attraversiamo i primi prati attraversiamo i primi prati attraversiamo i primi prati totale Grazie a tutti. 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 Ancora un po' da rifinire, vedremo la prossima settimana, la settimana che vedrete il video sarà già tutto a posto. Esatto, grande e vi aspettiamo la gara.